Un saggio disse, non abusare della pazienza delle persone buone, sono persone che possono perdonarti anche centinaia di volte, però se decidono di andarsene non tornano più indietro. E mi raccomando, state sempre attenti agli sconosciuti, soprattutto quelli che conoscete da tantissimo tempo. Quando qualcuno giudica il tuo cammino, restali le tue scarpe. La generosità è un dono che appartiene all'anima, non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei. Grazie mille per restare con Just Funny One, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, grazie.